E' Oscar Aiello della Lega che chiede siano riportate in servizio le guardie venatorie in provincia di Caltanissetta un servizio di tutela ambientale, quello svolto su tutto il territorio da sud al nord della provincia nissena. La provincia di Caltanissetta insieme a quella di Tlapari, se non ricordo male, è l'unica in Sicilia a non avere l'importante servizio di polizia provinciale. Il servizio pubblico di tutela del territorio era svolto da 25 guardie venatorie, un servizio pubblico che andava a favore di tutta la provincia, dal nord al sud, un interno delle sentinelle sul territorio, non solo la tutela ambientale ma anche delle persone, la sicurezza statale perché tenava sotto controllo le strade provinciali, avevano anche trovato delle persone smarrite. Dal 2014 il servizio è stato interrotto, adesso grazie all'interlocuzione avviata dall'Europarlamentare della Lega, Annalisa Zardino, insieme al sottoscritto abbiamo avuto un incontro con l'ex guardie, con le segretari generali della provincia, ex provincia, oggi di pro consorzio, per poter appunto tentare di ripiare il servizio. C'è un progetto, adesso si cercherà un'interlocuzione seria con il governo regionale tramite la nostra deputazione all'Asse, in modo tale che anche la nostra provincia possa rientrare in servizio l'ex guardie venatorie, un servizio che andrà a beneficio di tutta la provincia di Sena. Aperto quindi il percorso di interlocuzione con il governo della regione siciliana e i rappresentanti della Lega Palazzo dei Normanni.